salve a tutti e allora riprendiamo la testata della punto 1.6 turbo quella con il diamo del pistone più piccolo ma la costa più lunga in questo caso avevamo fatto una prima analisi così per vedere dove andare a migliorare già qualche spunto di lettura l'abbiamo avuto ma ora andiamo a provare sia il collettore di aspirazione quindi che è fatto in due pezzi dove vanno collocati addirittura quattro iniettori nel primo tratto e altri 4 nel secondo tratto quindi abbiamo otto iniettori da poter montare poi in questo andrà montato con questo tipo di corpo farfallata che l'andiamo a utilizzare anche per vedere qualcosa al banco di frussaggio anche singolarmente andiamo a vedere di poterla andare a provare e difatti poi andando a vedere qualcosa qui sul collettore ho visto pure che addirittura dove è stato saldata la giunzione qui del corpo della farfalla già ho visto pure delle lesioni quindi in alcuni punti già si stava per aprire vedete questo questo lineamento scuro che abbiamo in qualche punto di questo andrà di nuovo intaccato leggermente per andare a fare una saldatura di nuovo e quindi andiamo a fare anche nello stesso nello stesso tempo andiamo a leggere anche lo scarico perché non avevamo fatto questa lettura iniziale quindi prima di iniziare a lavorare la camera perché in questo caso andiamo soltanto a lavorare la camera e qualche aggiustamento vediamo di poter vedere da poter fare sullo scarico o qualcosa anche all'imbocco dell'aspirazione proprio perché dobbiamo andare ad avere un quadro delle misure delle dei vari collegamenti tra collettore e testata solo che se andiamo un po a vedere anche da vicino ho notato che abbiamo sul condotto dell'aspirazione vedete delle risalite del dei gas di scarico sull'aspirazione e quindi qui la parte più pulita dove va a spruzzare l'iniezione ma poi sulle altre parti vedete qui ci sono dei segni neri proprio di di combustione che va a risalire sullo scarico e sull'aspirazione questo lo dobbiamo vedere se è una causa che abbiamo in fase di incrocio delle varve l'apertura delle varve un po esagerata oppure se abbiamo delle strozzature sullo scarico che impedisce di avere lo i gas di scarico più liberi verso lo sfogo e avere più libertà di creare più fase libera nella nel cilindro quindi più svuotamento dei gas e quindi andiamo a vedere un po nel sistema di lettura anche dello scarico proprio per vedere se abbiamo delle strozzature qui sui condotti interni o qualcosa che va a rostruire anche sull'imbocco del del collettore e da analizzare anche un discorso anche di messa in fase delle dell'albero a camera quindi vediamo di andare a valutare un po tutto insieme e poi andiamo a fare la lavorazione della camera perché già avevamo preso dei riferimenti su quella punto 1.6 16 valve con diametro più grande quindi da 86 di pistone d'accordo vado a fare questo tipo di di prove sulla testata momentaneamente con sia l'aspirazione scarico e poi andiamo a vedere di andarla a fare con la lavorazione della camera e allora ho completato lo scarico ma con il primo tratto che va poi attaccato alla turbina sotto proprio per avere un dato di lettura in più in questo caso poi attraverso il grafico andiamo a vedere cosa va a comportare di differenza perché quando andiamo a fare la prova sullo scarico della testata anche nel senso giusto che lo andrò a fare ora mi servirà quello per andare a confrontare le varie testate anche se non ho il primo tratto dello scarico in questo caso lo andiamo a sfruttare proprio per vedere un po la differenza di comportamento perché con il primo tratto possiamo avere quel classico miglioramento perché abbiamo un tratto di lunghezza del condotto dello scarico più lungo e quindi andiamo a sfruttare un po la lunghezza ma nello stesso tempo possiamo vedere pure di quantificare se ci sono delle perdite rispetto a quello che abbiamo come velocità sul condotto delle sulla testata quindi vado un po a completare tutte le altre letture che dobbiamo andare a fare sulla testata anche perché non avevamo ancora il quadro completo nel nel primo video che abbiamo fatto quindi andiamo a fare questo per poi andare a fare il lavoro sulla camera di aggiustamento sulla testata d'accordo e allora iniziamo con l'aspirazione questa è la prima prova di flussaggio sulla testata a livello di comportamento del condotto di aspirazione poi dopo questa prova di di lavoro di prova sulla sul condotto aspirazione ha fatto un leggero aggiustamento sulla sulla parte del del condotto interno e quindi questo è il miglioramento che si è un po avuto a livello di di portata però che cosa andiamo a valutare ora adesso dopo la prova che ho fatto nel senso inverso se andiamo a vedere tra il comportamento del del condotto iniziale e la prova nel senso inverso quindi dalla camera che va a finire fuori dalla testata andiamo a vedere che sulle basse aperture ha molto miglioramento ma anche come a livello di comportamento di sezione di condotto abbiamo sempre un miglioramento rispetto alla prova iniziale proprio perché in questa prova di aspirazione quello che va a determinare questo grafico di comportamento è il rallentamento sulla valvola che andiamo ad avere come sezione che va ad ostacolare il flusso quindi nel senso inverso non l'abbiamo e andiamo a migliorare questo ci serve per valutare almeno io lo vado a decifrare in questo modo che in camera possiamo andare a migliorare ma nello stesso tempo andiamo a migliorare cioè andiamo a vedere che nella sezione del condotto a livello di sezione abbiamo un buon comportamento quindi non è la sezione che va a rallentare il flusso però l'altra cosa che andiamo a vedere che cos'è che nella prova dello scarico e quindi qui un po andiamo a fare un confronto di lavorazione che vi faccio notare ora adesso che questa è la prova dello scarico sempre come come primo riferimento poi andando a montare il primo tratto dello scarico quindi quello dove poi va attaccato la turbina quindi dalla testata colleghiamo alla turbina questo è il primo tratto andiamo ad avere dopo 3 mm un miglioramento che si che arriva fino anche a 14 mm di portata proprio perché il tratto più lungo del del dello scarico ci fa avere maggiore defluenza del flusso verso la turbina da questa valutazione che andiamo a fare poi l'altra prova che è di importanza è la prova nel senso nel flusso inverso quindi come un comportamento dell'aspirazione ma vedete che questo grafico va ad euguagliare proprio il flusso dell'aspirazione vedete aspetta che tolgo il flusso giusto quindi questo è il grafico dello scarico ma nel senso inverso come se lo andiamo ad avere come aspirazione ma perché ci dà un aiuto questo grafico perché se lo andiamo a confrontare con l'aspirazione vedete che a livello di comportamento si abbiamo qualcosa in meno a livello di portata proprio perché lo scarico l'abbiamo leggermente più stretto vedete come va a abbassare la curva in alto però nei bassi nelle basse aperture delle valvole vedete come abbiamo più miglioramento qui quindi fino a 7 mm abbiamo miglioramento sullo scarico nel flusso contrario facendo un confronto con l'aspirazione questo è dovuto a qualcosa che si va a comportare dentro la camera di combustione ma ora andiamo a vedere per adesso andiamo a vedere le portate in cfm che io ho fatto qui sul grafico vedete questa è l'aspirazione la colonna dell'aspirazione nel senso giusto quindi questa è la linea blu invece in rossa abbiamo la linea del senso contrario per vedere un po il distaccamento di quanto va a migliorare se non avremmo l'ostacolo del piattello della valvole analizzando anche questi dati se andiamo a fare un confronto con lo scarico vedete un po quello dello scarico come si va a comportare nel senso giusto quindi dalla camera e l'uscita lo scarico l'abbiamo molto migliore dell'aspirazione se andiamo a fare il confronto quindi questo è lo scarico e scusate lo scarico però lo dobbiamo mettere nel senso giusto quindi questo è il comportamento dello scarico rispetto all'aspirazione vedete di quanto andiamo a migliorare sullo scarico proprio perché non andiamo più ad avere il comportamento del rallentamento della valva ma andiamo a vedere da vicino perché si va a comportare in questo modo e allora se andiamo ad analizzare questo disegno che io ho fatto ma non è dovuto a questa testata quindi è soltanto un disegno indicativo per poter valutare in 3d il comportamento del flusso non c'è la valvola disegnata ma se andiamo a vedere dal condotto vedete la sezione l'abbiamo ampia rispetto alla lettura che abbiamo fatto soltanto che nello scarico che cosa succede anche se abbiamo una sezione più ristretta quindi nel passaggio valvola abbiamo meno ostacolo perché la parete la parete della valvola quindi tra la sede valvola e camera quindi della parete della camera di scoppio abbiamo più distanza invece nell'aspirazione questa distanza è di meno quindi andiamo ad avere un flusso più rallentato proprio nell'uscita in camera e questo è quello che dobbiamo andare a fare per migliorare un po' l'aspirazione almeno ripeto come sezione di condotto ci siamo e dobbiamo soltanto andare a vedere di poter migliorare questa lavorazione in camera che ora io faccio notare sulla testata e poi la vado a fare e andiamo a presentare poi nel prossimo video come completamento della lavorazione con delle differenze a livello di portata e allora andiamo a vedere il comportamento che abbiamo avuto sulla testata a parità di valvola che sono poi la differenza di un millimetro quindi questa l'aspirazione l'abbiamo soltanto di un millimetro più grande dello scarico però in camera già abbiamo un comportamento le sedi sono più vicino quelle dell'aspirazione o perlomeno in base alla grandezza sono più vicine le valvole e nel senso del flusso quando poi da dentro il condotto deve uscire il flusso si va ad ostacolare tra questa valvola e questa valva invece dello scarico il comportamento che abbiamo avuto sulle basse aperture che abbiamo sempre a parità di flusso sempre un miglioramento rispetto anche all'aspirazione come abbiamo visto nel senso a uguale prova di flussaggio quindi come se lo scarico lo andiamo ad avere come aspirazione pure il comportamento l'abbiamo avuto perché intanto abbiamo più distaccamento delle valvole poi l'effetto parete qui in camera si fa a fare risentire meglio rispetto all'aspirazione quindi abbiamo più comportamento di uscita delle gas di scarico e anche l'inclinazione poi interna del condotto va a cambiare tra aspirazione e scarico quindi quel miglioramento l'abbiamo avuto anche se a parità di sezione più ristretta si è comportato meglio dell'aspirazione l'unica cosa che andiamo a fare ora in questa lavorazione a parte che poi vediamo se possiamo andare a modificare qualche cosa pure di andare a liberare un po' la camera per avere meno ostacolo e vedere come si va a comportare ripeto questa simulazione l'abbiamo fatta qualche mese indietro sull'altra testata quindi andiamo un po' a valutare questo tipo di lavorazione altra cosa che poi è importante nel mantenimento della velocità del flusso in camera sarebbe poi il continuo della sede con la parte che si va ad avere in camera quindi basta queste altezze che vanno un po' a variare tra la camera e la sede valvola che va a influire nel miglioramento o nel basso o in alto quindi poi in qualche video andiamo un po' a chiarire meglio questo concetto